Dal produttore al consumatore con il mercatino di Campagna Amica di Coldiretti che ha fatto tappa in piazza Mazzini a Lecce. Un'occasione per permettere ai contadini o allevatori ma anche florovivaisti di raccontare al consumatore il processo che porta i prodotti direttamente nelle loro case. Campagna Amica garantisce infatti prodotti sani e genuini nati e cresciuti sul territorio salentino e pugliese nella maniera più naturale possibile. Un grande momento di incontro tra gli agricoltori e i consumatori. Noi speriamo che questo evento possa avere il successo che merita. Il consumo più consapevole è già dato dall'incontro tra il produttore e il consumatore. Il momento in cui il produttore spiega, racconta tutte le fasi di produzione e garantisce in questo modo la qualità del prodotto. Ma la cosa importante è il fatto che questo tipo di mercato rappresenta l'esempio lampante della disintermediazione. Abbiamo espositori della nostra provincia principalmente e poi abbiamo anche l'onore di ospitare qui diversi produttori che rappresentano tutta l'agricoltura pugliese. Chiaramente sono diversi i vantaggi per quanti usufruiscono della vendita diretta dalla sicurezza alimentare fino al risparmio economico. Il prodotto è sempre super controllato, certificato e le teniamo sotto controllo 24 ore su 24. Grazie a queste manifestazioni riusciamo comunque a portare il prodotto genuino e sano a queste persone. Il modo migliore per scoprire la terra è proprio la cultura. Noi abbiamo un bagaglio culturale enorme e l'unico modo per scoprirlo è proprio conoscerlo. Recupero degli avanzi e lotta allo spreco sono anche altri obiettivi di Campagna Amica che ha presentato l'angolo food hub del Made in Italy, luogo ideale dove poter consumare piatti locali e di prossimità.